... Mercoledì 2 dicembre dagli studi di Fano TV di via Paolo Borsellino a Fano. Buongiorno dalla redazione e benvenuti alla rassegna stampa Occhio ai giornali. Il commento alla stampa del giorno, i giornali li conoscete già, li trovate in edicola. Vi invitiamo ad andare a acquistarli in edicola, in versione cartacea, il Carlino e il Correo Adriatico, che tra poco vedremo, abbiamo già selezionato le pagine più interessanti, più importanti a nostro giudizio, e li vedremo, le vedremo con i titoli. Andiamo però a vedere il Santo del giorno e poi il tempo. Il Santo è Santa Bibiana, il sole sorgerà alle 7.27 e tramonterà alle 16.33. Adesso subito il tempo. Il tempo per oggi, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, vedrà precipitazioni deboli diffuse con attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali della giornata. Nelle prime ore della nottata e della mattinata saranno possibili rovesci nel settore centro-settentrionale. In serata fenomeni anche a carattere di rovescio. Limite delle nevicate attorno ai 1.200-1.300 metri. Temperature in aumento, in particolare quelle della notte. Attenzione perché lungo la costa avremo raffiche di vento forte sin dal pomeriggio di oggi. Vedete, c'è anche la neve per la giornata odierna tra i 1.200-1.300. Poi domani invece il tempo migliora anche se non splenderà il sole, ma comunque sarà coperto, nuvoloso, ma non ci saranno precipitazioni. Così venerdì invece, venerdì 4 dicembre, avremo soltanto nel tardo pomeriggio la possibilità di deboli isolati piovaschi nel comparto montano. Siamo nella zona del Catria, del Nerone, Carpegna. In diminuzione le temperature, soprattutto quelle della notte, invece in aumento quelle del mattino. Poi comunque giornate più o meno poco significative dal punto di vista meteo nei prossimi giorni. Andiamo a vedere subito i giornali. Allora, cominciamo dal Carlino di Pesero. Restrizioni, tira e molla. Foto notizia verso la zona gialla. La Regione chiede regole meno ferree. Ricoveri ospedali ancora in affanno. Invece sono i numeri delle marche che non sono, purtroppo, questa è una brutta notizia, non sono da promozione. Anche se c'è il pressing da parte del governatore Acquaroli, certamente. Ma i numeri sono stabili. I pazienti sono stabili anche in terapia intensiva. Poi c'è sempre qui sulla prima hotel, si parla di alberghi. I Berloni, proprietari della Fox, comprano anche l'International. E poi i saldi, i saldi a gennaio, però gli sconti ci sono già. C'è arrivato il sì, è arrivato il sì dalla Regione, alle vendite promozionali. Per quanto riguarda il Covid, il direttore sanitario del Santa Croce, Berselli, garantisce. L'ospedale tornerà presto Covid free. E poi, sul caso del laboratorio, fatta la proposta Valentini, ma non potrà lavorare gratis. Ci sono tante pagine oggi dedicate alla questione messa di Natale. Ok, all'anticipo c'è chi pensa addirittura di farla al cinema. E adesso il Corriere Adriatico. Carta Galantara, quindi struttura privata, per Marche Nord. Per riportare il Santa Croce Covid free, 21 pazienti verranno trasferiti in strutture residenziali. Familiari e amici, i contagi continuano a correre. In Regione i ricoveri sono stabili, ma ancora ci sono 13 morti. Rabbia per la via chiusa, sorpresa. A Pesero i commercianti del centro protestano. E poi il gerentologo dice a Natale, non lasciamo solo gli anziani. Poi con il bonus spesa, altri 400 mila euro per chi è in difficoltà, arriveranno dal Comune di Pesero. Poi Comune e Regione, sempre a Pesero, messaggi di tregua sul nuovo ospedale. E poi, teppisti, ragazzini al Parco Scarpellini, chieste le telecamere. A Fano invece, malore fulminante in casa, muore storico DJ. E ripartiamo da qui, dalla morte di un personaggio, di una persona che a Fano era conosciutissima. Una persona che, quando si è diffusa la notizia ieri della sua morte, ha fatto subito il giro della città. È un geologo di professione, ma ha sempre fatto ballare tantissimi giovani, quelli che oggi hanno circa i 60 anni, ed era un DJ famosissimo. Andiamo a vedere, Armando Donini. Eccola qua, la fotografia di Armando, che stava raccogliendo le foglie in giardino, ieri pomeriggio, poi si sentiva stanco, si è accasciato sul divano. È stato un attimo, come scrive Tiziano Petrelli sul Carlino di questa mattina, un attimo, un malore improvviso, silenzioso, fatale. Se ne è andato così, prematuramente, all'età di 61 anni, Armando Donini. Il geodj, così come amava definirsi lui, con la disco music nel cuore. Geologo di professione, musicista per passione, lascia la moglie Maria Grazia, il figlio Alberto, ed un gran vuoto in tante generazioni di fanesi che per lunghi anni hanno ballato al ritmo della sua musica. Nel 68, al concorso Pinocchietto d'Oro, a soli sette anni, aveva già inciso un disco, dal titolo I cinque monelli del mondo. I funerali giovedì alle 15 nella Basilica di San Paterniano. Osvaldo Scatassi, invece, lo ricorda, così, nel Corriere Adriatico. Donini, il disjockey con il sorriso. Malore fulminante in casa, geologo scomparso a 61 anni, dopo gli anni delle discoteche, era diventato attore dialettale. Domani, funerale a San Paterniano, il ricordo di Diotalevi, che dice di lui, aveva un'ironia pungente, portava allegria. E poi in tanti l'hanno voluto salutare nella camera mortuaria del San Salvatore. Come dicevamo, Armando Donini è morto intorno alle 17.30 di lunedì scorso. Nella giornata di ieri sono state numerose le persone che hanno voluto portargli un ultimo saluto nella camera mortuaria del Santa Croce di Fano. A Donini è stata dedicata una scheda anche nel secondo volume di Fano Music Story, la storia della musica moderna a Fano, realizzata da Paolo Casisa. I ragazzi della sua età, oggi intorno ai 60 anni, continueranno a ricordarlo giovanissimo appassionato di canto e poi di chitarra, sedicenne batterista autodidatta, quindi DJ, i primi passi con Roberto Farabini, dalle discoteche Mirage a Calcinelli, a Rianna, la Capannina e Male a Fano, poi i People, la Marotta, Cioccolato a Gabice Mare, prima che decidesse poi di dedicarsi del tutto invece ai suoi studi. Quindi domani, per chi vorrà salutarlo, alle 15 nella Basilica di San Paterniano. Allora, le pagine del Covid. Allora, Berselli, il Santa Croce tornerà Covid-free, 24 pazienti positivi saranno portati a Pesaro, il direttore sanitario di Marche Nord fa il punto sul focolaio esploso all'ospedale di Fano, la situazione è sotto controllo, il monitoraggio su oltre 100 dipendenti ha fatto emergere 12 casi, 3 dei quali intercettati con i test antigenici. Intanto dobbiamo dire anche che delle 124 persone ricoverate a Santa Croce, la metà sono arrivate qui da altre province. Ci sono queste soluzioni, come la zona grigia, che ci aiuta, dice Berselli, a gestire meglio i casi sospetti che si presentano al pronto soccorso. C'è un'altra notizia che sicuramente potrà essere d'aiuto, cioè l'arrivo in farmacia, lo diciamo ormai da diverso tempo, ma ormai dovremmo esserci, dei test rapidi che costeranno 19 euro e saranno disponibili tra pochi giorni al prezzo calmirato di 19 euro, questo test sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-Covid-19. La risposta si manifesta indicativamente intorno ai 15 minuti, quindi una volta che uno fa questo test, nel giro di pochi minuti, insomma, ha la risposta. È ovvio che in caso di sospetta positività, l'assistito si impegna ad eseguire poi il tampone molecolare di controllo come disposto dall'Asur Marche. Allora, qui diciamo tre pagine dedicate, come anticipato all'inizio della rassegna stampa, alla questione della Santa Messa di mezzanotte, quella della vigilia di Natale. Molti la vedono come una tradizione da non toccare, altri pensano invece che c'è un problema sanitario molto più preoccupante e importante della tradizione. Insomma, ci si spacca un po', ma soprattutto ci si spacca laddove si vede e si guarda solo il fatto dell'ingerenza nei confronti della Chiesa da parte dell'Unione Europea. E questa mattina Monsignor Kamisaska si scaglia un po' contro Bruxelles, anche se poi qui è un po' una forzatura, anche il titolo, l'Europa non tocchi la Messa di Natale. Non è la Messa di mezzanotte, non tocchi la Messa di Natale. Il Vescovo dice la nostra fede è sotto attacco, non ha il diritto Bruxelles di chiedere lo stop delle celebrazioni. In effetti questo ci sta, ed è vero, così si perde anche il senso della laicità. Quanto ha dichiarato inizialmente la Commissione Europea, dice il Vescovo mi ha molto stupito, l'Europa non ha alcuna competenza per raccomandare alle Chiese la sospensione della Messa di Natale, sarebbe un'incursione inaccettabile nella sfera religiosa. Non riesco più a capire in che direzione stia andando la laicità dello Stato. Da tempo è nato un progetto culturale per marginalizzare la fede. Peggio ancora, io credo che si voglia far diventare la fede come un fatto privato. Questa è un po' la tentazione. Come dire, basta queste grandi celebrazioni. La fede è un fatto privato, quindi deve essere gestito come tale. Tutto questo stentare, raduni, messe, eccetera, eccetera, a qualcuno evidentemente non piace. Intanto sulle celebrazioni religiose, però, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha già stabilito che le celebrazioni saranno alle 8 di sera. Venite, dicono le Chiese, sono sicure. Piena collaborazione con il Governo. Non siamo ancora fuori dalla pandemia. Niente streaming. La Messa della Vigilia di Natale si terrà con la partecipazione dei fedeli, come sempre, solo anticipata alle 20, in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. La Messa, dunque, del 24, non si celebrerà a mezzanotte, ma verrà anticipata alle 20, come sembra anche nelle intenzioni di Palazzo Chigi. Quindi i parroci che si stanno organizzando con gli streaming, eccetera, io credo anche su internet, io credo che debbano essere orientati verso questa decisione. Poi evidentemente ogni diocesi darà le sue indicazioni con il proprio Vescovo, con l'ordinario del luogo. Quindi, insomma, da questo punto di vista niente di nuovo. Il Papa, credo, la celebrerà alle 21, quindi anche su Fano TV la potrete seguire in diretta alle ore 21. Però, andando sempre sui giornali, la Messa di Natale, l'orario non è un dogma. Qui siamo sulle pagine di Pesaro. Stiamo pensando di aprire addirittura il cinema, l'idea di Don Giuseppe Fabbrini della parrocchia di Loreto, altrove si pensa ad altoparlanti esterne e sedi aggiuntive sul Sagrato. Il giornale ha raccolto un po' i vari pareri dei parroci, Don Marco Di Giorgio, Don Giuseppe Fabbrini, Don Michele Rossini. Insomma, questa è un po' la... Poi c'è Donald Elio Baltare. Insomma, Elisabetta Ferri ha sentito un po' i vari pensieri e i vari pareri. Io mi limito da meggiugoriano... Ecco, anche no, la pagina di Fano, c'è anche Fano, non dimentichiamoci. Leggiamo prima questo, poi vi dico la mia. Allora, Messa di Natale tra megafono e streaming, le parrocchie cominciano ad organizzarsi per le celebrazioni religiose, cercando anche spazi esterni. Speriamo non faccia troppo freddo. E quindi, anche qui, Anna Marchetti ha raccolto un po' le varie indicazioni, un po' le varie strategie, tra virgolette, da parte dei parroci della diocesi di Fano. Alla Gran Madre di Dio, per esempio, a San Lazzaro, c'è addirittura un servizio d'ordine. I posti, in questo caso, sono stati ridotti da 350 a 104. No, l'unica cosa che volevo aggiungere io, da meggiugoriano, quale sono, è che la Madonna, il 23 di dicembre del 1981, quindi siamo agli inizi delle apparizioni, la prima è stata il 25 giugno, quindi il 23 dicembre ai ragazzi giovanissimi aveva detto la Messa di Natale sia celebrata a mezzanotte e non alla sera. Però era l'81 e probabilmente anche Maria adesso forse la penserà in modo diverso, non lo so, però questo era il messaggio dell'epoca che ha dato ai veggenti. Poi il presepe di San Marco, restando sempre a Fano, solo in video, il presepe di San Marco festeggerà il suo ventesimo compleanno, purtroppo a porte chiuse, e salterà anche la consueta inaugurazione a pochi giorni dal Natale. Andiamo sull'altra pagina, qui c'è il conto alla rovescia per la zona gialla, ormai siamo arrivati, oggi è il 2, e domani sapremo, forse anche prima, qual sarà la sorte che toccherà, il colore che toccherà la nostra regione. La regione va in pressing, perché abbiamo visto che i numeri non giocano a nostro favore, ma il governatore invoca misure meno ferre, anche per i ricongiungimenti familiari. Carloni dice bar e ristoranti aperti fino alle 23. Ecco, quindi diciamo che sugli spostamenti ci potrebbe essere questa eccezione solo per i parenti stretti, il governo sta ragionando sul blocco di questi spostamenti tra regioni, con la sola eccezione dei parenti più stretti per le festività natalizie e di chi ha le seconde case. Poi il ritorno a scuola è in aula il 14 dicembre, l'apertura è cosiddetta simbolica, il Premier ha anche ipotizzato questa riapertura il 14 dicembre, senza attendere il nuovo anno, parlando di una sorta di apertura simbolica che darebbe un bel segnale ai ragazzi, prima di andare poi in ferie, insomma, in vacanza. Raccomandazioni invece per i commensali. Per quanto riguarda i cenoni, sul numero di commensali ci saranno solo, chiaramente, delle raccomandazioni, non è che il governo può obbligare o fare leggi che intervengano dentro le case private della gente. Quindi se uno vuole fare una festa con 100 persone, chiaramente lo può fare, sto esagerando, ma a parte che dovrà vedersela con i vicini di casa, probabilmente, ma comunque, questo per dire che sono solo raccomandazioni. Il coprifuoco resterebbe alle 22 anche la notte del 24 e del 31 di dicembre. Sempre per quanto riguarda le possibilità, ecco, vedete, anche sul Natale, qui il coprifuoco resta e dunque la messa è anticipata alle 20, perché se alle 10 di sera c'è il coprifuoco, la messa, ovviamente, o torto collo, è anticipata alle 20. sulla questione, il governo però si sta confrontando ancora con la conferenza episcopale italiana. Andiamo a vedere l'altra pagina. Allora, sul Corriere Adriatico, metà dei contagi, eccola qui, ha un volto amico, continuiamo giusto a ripetere che scuola e movida pesano ancora, dai contatti con i familiari, parenti e amici, arriva oltre il 50% dei quasi 16 mila positivi di novembre. I numeri nel mese di novembre per le marche novembre è stato veramente, se vogliamo dare dei colori, un mese nero. Ieri intanto i ricoveri stabili a 627, ma altre 13 vittime si sono registrate. Il totale sale a 1.289. I contagi superano quota 30 mila, mentre nonostante il coprifuoco e la didattica a distanza crescono i casi legati alle lezioni, quindi a scuola e anche un po' allo svago. I nuovi casi di giornata scendono a 337, ma solo il 28% dei testati. Ora, parlando con la gente, ma anche guardandosi in giro, insomma c'è tanta gente che si comporta bene, con la mascherina, tutto quanto. Non dico quale bar, ma l'altro giorno sono andato in un bar a Pesaro e vicino a me c'erano tre persone che stavano prendendo un caffè in un bicchiere di carta con la brioche nel sacchetto, quindi il gestore aveva permesso a queste persone di mangiare lì, di fare colazione lì e quindi non di uscire, ma la cosa brutta è che stavano lì senza mascherina, non solo mentre mangiavano, chiaramente quando uno mangia non può usare la mascherina, ma erano allegramente come se nulla fosse, infatti non avevano la mascherina, sono usciti senza mascherina, sono entrati nella macchina tutti e tre, nell'automobile senza mascherina. Questo perché vi racconto questo? Perché purtroppo ancora ci sono sacche di persone che pensano di vivere in un mondo a parte. Ieri sera ho telefonato ad una persona, un amico, un collega, anche qui non faccio il nome, e sono rimasto gelato perché al telefono non riusciva nemmeno a respirare. Una persona colpita dal Covid. Non è uno scherzo, mi ha detto, spero di uscirne bene. E gli ho detto, ne uscirai bene, ti rassicuro e pregheremo per te. Dopo un mese, un mese, dal primo di novembre, io l'ho chiamato ieri sera, prima di andare a dormire, e aveva ancora questo. Quindi è una cosa che si porta dietro. Vedete, ci sono due spaccati, e ancora ci sono tante persone, purtroppo, che non gli entrano nella testa. Le regioni non passano. Il governo cede solo sulle visite ai familiari. Bocciata la proposta di tenere aperti i ristoranti, locali e palestre, fino alle 23. La voce di Conte chiede lezioni in presenza alle superiori già dal 14. No agli anziani, soli a Natale. Fate come dice la Merkel, arieggiate molto gli ambienti. Anche noi qui a Fano TV teniamo, a volte trasmettiamo con dovremmo avere il giubbotto dal freddo che fa, ma si tiene sempre tutto aperto. È importante arieggiare. Magari mettetevi anche quando siete in casa, mettetevi un cappotto, mettetevi una sciarpa, un cappello, ma aprite le finestre il più possibile. Fate arieggiare. Spostamenti e cenoni solo per parenti stretti. Conte cauto. Non sarà un Natale da liberi tutti. Incontri tra governo e regioni. Si discute sulle deroghe e alle restrizioni. Niente vacanze. Nelle seconde case e negli hotel di montagna. Vietati viaggi tra zone diverse dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. Verso l'apertura dei ristoranti fino alle 18 nei giorni festivi e soprattutto nelle aree gialle. Dunque, che cosa ci aspetta? Che cosa si potrà fare? Attenzione perché ci saranno più controlli sulle autostrade. Italia Viva di Matteo Renzi ha chiesto al Premier durante la riunione con i capi gruppo di tenere i ristoranti aperti a pranzo il 25 e il 26 di dicembre. La richiesta è quindi aperta una discussione in seno al governo. Ma secondo l'indiscrezione l'orientamento è quello di bloccare gli spostamenti tra le regioni tra il 21 di dicembre e il 6 di gennaio. Per questo servirebbe il decreto in quanto giuridicamente più corretto. Le date invece possono variare poco. Poi ci sono anche altre cose che vanno ricordate. Ecco, cosa si può fare? Il cenone, sul cenone dell'ultimo dell'anno, il Premier ha valutato l'ipotesi che gli spostamenti potessero avvenire non solo per i residenti ma anche per i congiuncimenti familiari. Ma alla fine sarebbe prevalsa nel governo la linea della prudenza dura. Quindi probabilmente sull'ultimo dell'anno c'è poca speranza. Gli alberghi invece pressoché sicuro il divieto di riaprire gli impianti sciistici. Sulle crociere invece il nuovo DPCM potrebbe fermare le crociere nelle festività natalizie. Ma è una decisione finale che non è stata ancora presa. Questo lo diciamo anche perché in questi giorni qualcuno si sta organizzando per uscire da questa cappa e magari svagarsi, andare in crociera, andare in montagna, andare laddove, anche lontano da qui. Ecco, però come vedete il governo sta pensando anche a tutte queste situazioni. Intanto sul fronte dei vaccini. Pfizer e Moderna. All'esame europeo. Il primo via libera arriverà a fine mese. Le dosi in Italia tra il 23 e il 26 di gennaio. iniezioni di massa in palestre e fiere. E queste iniezioni le gestirà lo Stato. Cala ancora la curva dei contagi a livello nazionale. Tornando a Pesaro, ricoveri e terapie intensive. Numeri purtroppo non sono, come dicevamo, da promozione. Le marche sono pronte sia a tornare in zona gialla nonostante gli indicatori ospedalieri restino costanti e si allunga la lista delle vittime. Ieri abbiamo detto sono 13 di cui tre residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. Torna a salire il rapporto tra test effettuati e positivi. Da noi 93 in provincia di Pesaro, 93 nuovi casi, ma è tutta colpa dei ritardi sui tamponi. Intanto il coordinatore del laboratorio, Valentini, che aveva detto sono pronto a tornare al lavoro anche gratis, ha inviato una proposta, però non potrà lavorare gratuitamente. Andiamo adesso sulla pagina di farlo del Corriere Adriatico, vigili del fuoco, nuova caserma, conto alla rovescia a Chiaruccia, ha segnato l'appalto per l'attesa edificazione sull'area comunale, toccherà ad un consorzio aquilano. Mentre sulla variante di Gimarra la regione esce allo scoperto, Ruggeri e Lupini dei Cinque Stelle, i 20 milioni bastano per realizzare l'opera? Questo si domandano. I Berloni, invece, a Pesaro, proprietari della Fox, fanno shopping e dopo la bussola comprano l'International attraverso la società di famiglia. Hanno acquistato all'asta l'edificio di Viale Cesare Battisti, chiuso dal 2002. Hanno pagato 3.200 metri quadrati, 835 mila euro. Si ipotizza un'operazione come quella della Rex Nautilus. Intanto il comune di Pesaro, Ricci, ha presentato ieri la nuova architettura di dirigenti, uffici, servizi e funzioni. Operazioni delle noci, il comune si riorganizza. Ricci dice avere Antonello come dirigente comporterà un risparmio. Intanto tra chi entra e chi esce, dopo 40 anni di impegno sociale, Mirella Simoncelli va in pensione. L'accusavano di rubare un bancario è stato assolto. L'uomo era uno sportellista della BCC di Fano. era stato denunciato all'inizio del 2017 per furto ai danni della sua stessa banca. Era sparita una busta con 8.900 euro custodite in cassaforte. E siccome l'imputato era stato visto entrare nella stanza dove c'era appunto la cassaforte quattro giorni prima della scoperta dell'ammanco, la banca lo ha querelato per deduzione pur scrivendo di non avere alcuna prova su di lui. Il secondo indizio, a riprova dei sospetti, è che il bancario ha versato qualche giorno dopo 5.000 euro nel suo conto corrente che era ovviamente quello della sua filiale. A quel punto il direttore della banca ha tirato dritto addossando allo sportellista la colpa del furto. Però è stato assolto. Potete leggere poi tutti i particolari. Il motivo di questa soluzione sul carino di oggi. Baby Vandali invece le famiglie li difendono. Siamo a Pesaro. I testimoni hanno paura di ritorsioni. Al Parco Scarpellini nuovi episodi di teppismo da parte di giovanissimi residenti chiedono a questo punto le telecamere. Via Almerici chiusa la rabbia dei negozianti. Nessuno ci ha avvisato. Zero clienti e incassi. Gli esercenti si sono trovati ieri mattina sorpresa la strada bloccata da una serie di lavori. Ucchielli troppa puzza per colpa del digestore. Con una nota ufficiale della Giunta il sindaco di Vallefoglia impone alla ditta Energia Nuova di fermare i cattivi odori emessi da un impianto di biogas di talacchio. La tolleranza ormai è arrivata a fine corsa il naso è pieno è saturo quindi dicono avevano già avuto delle prescrizioni avevano già avuto delle prescrizioni che non hanno rispettato questo avviso ormai è scaduto. Biodigestore il piano B in fuoco agli animi Borgo non ci sta associazione a confronto il consiglio di quartiere contro l'ipotesi dell'area al casello al posto di talacchio convocata una seduta straordinaria. A Urbino invece centro storico aperto da oggi possono entrare le auto nella zona traffico limitato la circolazione è consentita fino al 10 di gennaio anche chi non è in possesso del permesso può passare dai quattro varchi evidentemente questo anche per l'economia di Urbino. Per avere un alloggio popolare l'indennità di genere è un ostacolo da Fano ai sindacati un pasticcio procedimento taglia burocrazia ma insormontabile per molti mentre la fondazione Cassa Terrisparmio dona nove defibrillatori. Dalla Val Cesano la giunta taglia le indennità e acquista giochi per i parchi l'autoriduzione ha portato un tesoretto di 21.400 euro mentre da Senigallia sosta meno cari e aiuti al commercio per Natale il sindaco che vedete nella foto fa il punto del sostegno sul sostegno che il comune vuole dare alle famiglie e alle attività economiche di Senigallia stanziati i primi 50.000 euro che evidentemente non bastano. C'è un giudice invece tra gli alluvionati il processo si sposta all'Aquila sempre da Senigallia accolta l'istanza delle difese le parti civili persi sei anni Mangialardi dice non sapevo nulla e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo giusto il tempo di ricordarvi alle 16.30 anzi 16.20 esplorare i confini oggi questo pomeriggio vi faremo vedere uno speciale molto interessante stato attuale delle prospettive degli scavi di Pompei con Valeria Purcaro e poi alle 18.30 per tutti i bambini la prima puntata è stata un successone la diretta con Babbo Natale vi aspettiamo poi alle 20.30 ovviamente il telegiornale arrivederci grazie a tutti